Presidente Cattano, Presidente Maroni, abbiamo ascoltato la sua breve relazione e non ci aspettavamo certamente che lei ammettesse le sue colpe e della sua maggioranza per almeno i mancati, anzi direi totalmente inesistenti controlli che invece lei avrebbe dovuto fare. Ma speravamo non avesse il coraggio di venire a dire in Consiglio regionale che lei non sapeva o che i fatti erano precedenti alla sua elezione. Partiamo dal fatto che lei poche settimane fa aveva proposto proprio l'ingegnere Ognoni come subcommissario ad Expo e quindi questa sua inconsapevolezza è davvero grave da quale governatore della regione Lombardia. E partiamo dal fatto che il nuovo dottore Robuschi in realtà ha sempre operato di fianco a Porro, quindi o il dottore Robuschi non vede, non sente, non parla, oppure c'è qualche problema anche col dottore Robuschi, ma ne parleremo quando poi la magistratura ci darà ragione. Abbiamo parlato di un sistema, si legge su tutti i giornali, che non è una questione di due appalti, ma è una questione di un sistema di infrastrutture lombarde. Allora le faccio un attimino ricordo di tutte le sollecitazioni che abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle qui da quando siamo nelle istituzioni, in aula e nelle commissioni, su tutti i nomi che noi abbiamo anticipato essere poi entrati in questo calderone. A ottobre in commissione antimafia abbiamo fatto l'audizione proprio dell'ingegnere Ognoni con l'assessore del Tenno, che mi spiace sia andato via, il quale ci hanno denunciato, il quale ci hanno raccontato la presenza di questo software che gestiva in maniera assolutamente efficiente tutti gli appalti, anche e soprattutto quelli collegati ad Expo. In quel caso solo il 5 Stelle e nemmeno il PD, caro Alfieri, e nemmeno il PD aveva alzato il ditino per denunciare che non è un software che ci può tranquillizzare dalle infiltrazioni mafiose. Nessuno aveva alzato un ditino. Solo il 5 Stelle aveva denunciato a Ognoni e a Del Tenno il fatto che quel software era uno specchietto per le allodole e che a noi interessava vedere cosa succedeva a monte e a valle di quegli appalti e non di quello che viene messo dentro in quel software e i fatti ci hanno dato ragioni. In un'altra audizione in antimafia abbiamo fatto l'audizione col dottor Sala e al dottor Sala abbiamo chiesto chi garantiva la rettitudine, diciamo così, dei capocantieri. Anche in quell'occasione era sempre solo il Movimento 5 Stelle che ha alzato il ditino e ha detto ma guardi chi sono i suoi capocantieri, Porro e Comini. E nessuno degli altri partiti ha contestato alcune presenze come ad esempio il fatto che l'ingegner Comini, e noi l'abbiamo depositato con una mozione che è ferma lì nei cassetti dell'ufficio di presidenza, che l'ingegner Comini, direttore tecnico del cantiere e anche responsabile sul campo della CMC di Ravenna, era indagato per millantato credito per corruzione, ma lì era nei cantieri Expo. Abbiamo denunciato infinite volte la situazione della CMC e della Mantovani SPA, che sono le due capofila principali dei due appalti principali di Expo. L'abbiamo denunciato fino alla Nausa in Commissione chiedendo alla Commissione Antimafia di prendere una posizione dura, ma nessuno, caro Alfieri, nemmeno il tuo PD, ha messo una parola a sostegno del 5 Stelle per denunciare che queste due aziende sono dentro in indagini perturbativa d'asta, concorso esterno in un'associazione mafiosa. E di cosa vogliamo parlare quindi? Del fatto che non si sa che c'è un sistema in Regione Lombardia per la gestione discrezionale degli appalti. Sono aziende che hanno ottenuto l'appalto con un ribasso del 40% rispetto al prezzo di gara e che oggi continuano a mettere extra costi. E cosa vogliamo dire di tutte le altre aziende che sono sempre legate al cantiere Expo? La Ventura, il Consorzio Stabile Litta, la Tubo Sider, la Pegaso, la Coveco, potremmo fare un'infinità di nomi. Anche queste aziende sono indagate chi per turbativa d'asta, chi per aver truccato il meccanismo concorrenziale del mercato, chi per frequentazioni con cosche mafiose messinesi. Di tutto questo ma com'è che solo il Movimento 5 Stelle si legge le carte e le denuncia nelle varie commissioni competente e tutti gli altri partiti, tutti, l'Istambrosoli e i PD tacciono? La Socostramo è l'altra azienda coinvolta in un'inchiesta per corruzione in cui ad esempio il provveditore alle opere pubbliche che ai tempi era Enrichiello Francesco, anche questa casualmente è indagata per corruzione, così dicono gli organi di stampa. Questo Enrichiello, sapete chi è? È lo stesso che ha firmato il disciplinare di gara per la Romonza, che strani no? Tutti questi passaggi, tutte queste spartizioni. Che dire poi delle richieste fatte infinite volte alla commissione antimafia per prendere posizione, per allontanare tutte queste aziende dai cantieri ed expo e per far sì che la legge 190 abbia un'applicazione anche per la corruzione, la lotta alla corruzione all'interno dei gruppi politici. Come al solito ci hanno tutti attaccato perché è guai ad andare a fare davvero un piano triennale di prevenzione all'anticorruzione all'interno dei gruppi politici. Siamo tutti bravi a parlare in questa sala ma poi quando c'è a parlare ai fatti, tutti scompaiono e il 5 Stelle rimane da solo a chiedere davvero i fatti per l'anticorruzione. Devo ricordarle chi è il suo sottosegretario regionale all'Expo e devo ricordarle qual è il suo rapporto fiduciario con un collaboratore che l'ha messo in giunta, Oronzo Rao. E che cosa è successo con Oronzo Rao? Mi chiedo ma come mai il sottosegretario regionale all'Expo e ancora sottosegretario regionale dopo che le ha messo in pancia Oronzo Rao? Come mai le sta facendo l'Expo Tour con Fabrizio Sala? Qual è il suo senso allora di correttezza e di rispetto delle istituzioni di discontinuità? È fare l'Expo Tour con Fabrizio Sala? E che dire poi del Comitato Trasparenza a Palti Pubblici? Il Comitato Trasparenza a Palti Pubblici? Il precedente è vero, è stato toccato, questo no, però le do un suggerimento Presidente così che se le viene in mente di promuovere un'altra persona come Rognoni a qualche altro livello, magari fa notare questa volta che il 5 Stelle l'ha avvisato, faccia anche lì nel Comitato Trasparenza a Palti Pubblici qualche ricerca perché ad eccezione di Cicconi faccia un po' di ricerche e veda che non c'è nessuno forse da promuovere anche lì, perché magari anche nel Comitato Trasparenza a Palti Pubblici sembra strano che non vadano a indagare anche loro su Expo, sembra molto strano, faccia qualche indagine come l'abbiamo fatta noi, piuttosto semplice, vedrà che trova qualcosa anche lì dentro. Allora, i casi sono due, o lei davvero non riesce a vedere quello che sta succedendo intorno a lei, però a questo punto non è in grado di essere il governatore di Regione Lombardia, oppure anche lei sa, e in questo caso non è in grado di essere il governatore della Regione Lombardia e quindi le chiediamo di dimettersi. Ma ci sono altri controlli che avrebbero dovuto fare altri enti, come ad esempio il Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde, che fino a poco tempo fa era presieduto dall'attuale Presidente Cattaneo, oggi dall'Assessore del Tenno e vorrei sapere anche dagli altri consiglieri presenti nel Consiglio di Sorveglianza, da Altitonante, da Anelli e da Toia, qual è stato il loro lavoro dentro questo Consiglio di Sorveglianza? Potrebbero anche loro relazionare in Consiglio e farci vedere qual è stata la loro attività di vigilanza su infrastrutture Lombarde? Perché ci sfugge davvero l'elezione, queste nomine politiche di cui noi siamo sempre contrari perché poi danno i risultati che danno? Vorremmo capire anche in questo caso che cosa hanno fatto? E poi c'è la posizione vergognosa e inqualificabile del Presidente del Consiglio regionale. Sa dire dell'ingegnere Ognoni che è una persona retta e pulita e lo è anche tutte le persone che sono state coinvolte dentro in queste indagini, sono parole che fanno riflettere. Quando il Presidente del Consiglio regionale della regione più importante d'Italia si alza in difesa di un arrestato titolare per dieci anni dell'appaltificio Infrastrutture Lombarde, evidentemente c'è un serio problema di cultura della legalità che è peggio. Ma vi ricordate voi due, il Presidente Cattano e il Presidente Maroni, l'altro giorno in Sala Gaber che cosa recitava l'attore quando impersonava il dialogo tra Falcone e Bersellino? Beh, lui diceva che non sono i processi e le condanne che devono definire il livello di legalità del Paese, vi invito a rivederlo con lo spettacolo teatrale perché è lì il messaggio, non è quello il punto, non sono i processi, non sono le indagini, non sono le prove giudiziarie, i tribunali definiscono una questione giudiziaria ma esiste un livello, un livello culturale di legalità che è altro e che deve passare dalla politica e fin tanto che la politica si alza per difendere persone arrestate non andremo mai avanti nella direzione giusta. Con quelle sue parole, Presidente Cattaneo, lei ha scelto da stare dalla parte sbagliata e ha scelto di stare dalla parte sbagliata anche Squinzi, il Presidente di Confindustria, come anche oggi Alfieri e il Consigliere Ambrosoli, quando dicono che Expo deve andare avanti indipendentemente da quelli che sono le indagini in corso, in barba e in sfregio totale a tutti quegli imprenditori invece onesti che tutti i giorni soffocano a causa della zavorra, della corruzione che insita nel vostro sistema politico e che avete generato e non veniteci a parlare poi di lavoro, di tutela del lavoro perché questi imprenditori soffocano grazie a questa zavorra. Allora invito a concludere, i dieci minuti sono trascorsi. Concludo dicendo quindi che chiediamo le dimissioni del Presidente Maroni e del Presidente Cattano e che quindi non sarà certo la visita del venditore di pentole tra qualche settimana che arriverà qui in Regione perché evidentemente anche la buona sintonia tra Formigoni e Martina la dice lunga a far riflettere su quello che è il messaggio culturale che vuole passare il PD col Governo attuale.